Musica Ucciso per le botte e presi i vigilantes dell'ospedale, Francesco Vanacorre, 62 anni, aveva tentato di entrare in auto al policlinico a Napoli. Le guardie giurate dell'ospedale lo presero a pugni e calci, ammazzandolo. Stamane la svolta, arresti domiciliari per quattro vigilantes. Napoli, marcia di protesta, fermare la strage di pedoni, dolore e rabbia sul lungomare dei familiari delle vittime, vogliamo giustizia, servono pene certe. Il deputato Borrelli accusa le nuove norme favoriranno altre tragedie della strada, nelle ultime ore due morti tra Erpigni e Salernitano. Il caso boccia a San Giuliano tra accuse e nuovi veleni. L'imprenditrice di Pompei, in un'intervista alla stampa, ha parlato di viaggi in auto blu e concerti pagati dal ministero. Il ministro valuta denunce e De Luca attacca. Ha umiliato l'Italia e le istituzioni. Meloni, non se ne accorta? Omicidio Vassallo si litiga nel ricordo del sindaco, la verità giudiziaria ancora non c'è e nemmeno una memoria condivisa. A distanza di 14 anni il delitto resta senza colpevoli. Scontro tra Fondazione e Comune di Pollica, dure accuse del fratello del sindaco Pescatore. Avellino cemento illegale, la denuncia di legambiente, sindaci facilmente ricattabili, passi ai prefetti, il potere di abbattere gli ecomostri. E' la proposta lanciata a Mercogliano dal presidente nazionale di legambiente, Ciafani. Intanto a Benevento è polemica sulla crisi idrica. E questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale di Otto Channel. In apertura la cronaca lo avevano ucciso di botte nell'aprile scorso perché voleva entrare in ospedale con l'auto. Sono stati arrestati per questo quattro agenti di vigilanza. Sentiamo. Concorso in omicidio preterintenzionale pluriaggravato è l'accusa ipotizzata nei confronti di quattro vigilanti che l'8 aprile scorso, al culmine di una lite, hanno aggredito Francesco Vanacore, di 62 anni, che aveva tentato di accedere con la sua auto nel policlinico universitario Federico II di Napoli. Questa mattina i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Napoli Vomero e i militari della stazione Napoli Marianella, su disposizione del giudice, hanno arrestato e messo ai domiciliari i quattro indagati. Le indagini dei militari condotte dall'aprile al giugno 2024 hanno consentito, sulla base di dichiarazioni testimoniali, attività tecniche e consulenza medico-legale, di ricostruire quanto avvenuto la mattina dell'8 aprile scorso, quando il 62enne, dopo aver tentato di accedere all'ospedale a bordo della propria autovettura, Nel corso di un alterco, determinato dall'ennesimo diniego e a fronte di una spropositata reazione, è stato aggredito con pugni e calci sferrati al volto e ai genitali da un gruppo di vigilantes, tra cui i quattro indagati. Quelle botte avevano ammazzato Vanacore, ritrovato accasciato a terra con difficoltà respiratorie. Una vera e propria strage, l'esplosione del basso nel quartiere di Forcella a Napoli, ha provocato la morte di tre persone. Nelle ultime ore, infatti, è deciluto anche l'ultimo ferito, che era ricoverato in gravissime condizioni al Cardarelli. Non ce l'ha fatta nemmeno Afsaer, il sessantenne di nazionalità bengalese, come i suoi due coinquilini, travolti dalla deflagrazione in Vico Pace, nel cuore del centro storico. Le tre vittime, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, stavano ristrutturando il locale. Si indaga per capire se per viverci o solo per realizzare un deposito. Ancora morto sulle strade del Salernitano ieri sera a Valva a perdere la vita un giovane elettricista, Emanuele Miolli, il 32enne, si trovava sulla provinciale che attraversa il centro cittadino a bordo del suo scooter, quando per evitare di investire un cane ha sbandato, è perso il controllo del mezzo, finendo con violenza sull'asfalto. Inutili soccorsi da parte dei sanitari è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, cordoio e dolore nel comune dell'Alto Sele. E a Napoli i familiari delle vittime della strada e in particolare dei pedoni falciati lungo le arterie cittadine in marcia per chiedere una giustizia celere, certa e giusta. Slogan e fiori anche per ricordare Elvira Zibra. Vediamo. Due anni fa la morte di Elvira, 34 anni travolta da un centauro sul lungomare di Napoli ed oggi continua la battaglia dei familiari per chiedere giustizia. Ieri pomeriggio i familiari della giovane di origine marucchina si sono riuniti nel tratto di via Caracciolo dove la ragazza fu travolta, insieme a loro tanti altri parenti di vittime della strada per accendere i riflettori sulla mancanza di sicurezza stradale e la necessità di pene più severe per gli omicidi stradali. Sono male, perché mi è successo pure a mia figlia e non ci posso pensare, perciò voglio più che vengono più controllate le cose, pure in discoteca quando escono. L'ambito giuridico devono esserci leggi severe e punizioni esemplari. Credo che qualsiasi campagna di sensibilizzazione che sia propensa al cambiamento generazionale oppure a fare qualcosa di positivo per il nostro quartiere, per la nostra città, credo che andrebbero tutte quante supportate. Una strage da fermare, il monito del deputato Francesco Emilio Borrelli e dei rappresentanti di Europa Verde nella prima municipalità che hanno organizzato il corteo a cui ha partecipato anche la consigliera regionale Roberta Gaeta. Le famiglie delle vittime della strada hanno fatto un appello a noi parlamentari dicendo che il nuovo codice della strada è una strage annunciata per le vittime. Perché? Perché permette di aumentare i limiti di velocità e riduce le possibilità di fermarli. Riduce la possibilità di mettere autovelox e la possibilità di mettere dissuasuri. E non c'è stato nulla da fare nemmeno per la 76enne Mina Brogna deceduta dopo essere stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a Montemiletto in provincia di Avellino. La donna è deceduta poco dopo mentre il personale del 118 stava tentando di rianimarla. L'anziana nella caduta ha battuto la testa sull'asfalto. Ferite che non le hanno dato scampo. Il conducente si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. E cambiamo argomento. Il caso San Giuliano che continua a tenere in fibrillazione il governo. L'imprenditrice di Pompei, Maria Rosaria Boccia, abbandona i post social e fa una lunga intervista sulla stampa a meno di 24 ore dall'intervista del ministro sulla RAI. Vediamo. La vicenda ormai è un caso politico. Il rapporto del ministro San Giuliano con la dottoressa Maria Rosaria Boccia, 41 anni, imprenditrice di Pompei, continua a creare fibrillazioni anche se il ministro napoletano è tornato al lavoro e per ora non si parla di dimissioni Dopo la drammatica intervista in lacrime alla RAI, la Boccia non ha lasciato passare nemmeno 24 ore per rilanciare. Stavolta però non si è affidata al suo profilo social, ma in un'intervista alla stampa ha dato la sua versione dei fatti, attaccando sia il ministro che la premier Meloni. Dalle spese per i viaggi del ministero alle informazioni sul G7, Boccia ha rivendicato di poter dimostrare tutto quello che afferma. Ha detto che la conoscenza con San Giuliano sarebbe nata ad agosto 2023, dunque un anno prima di quanto dichiarato dal ministro. Poi ha ripercorso alcuni dei viaggi, ho sempre saputo che le trasferte venivano pagate dal ministero, ha detto. Anche i viaggi sull'auto blu del ministro non sarebbero stati solo brevi passaggi, ma lunghe trasferte e non solo in missioni del ministero. Siamo andati a eventi miei personali e privati, dove lui ha voluto presenziare e anche a un concerto dei Coldplay, ha dichiarato. A documentare questi viaggi ci sarebbero foto, video e chat. Infine ha criticato l'intervento di Giorgia Meloni sulla vicenda, accusando la premier di comportamento sessista. Ora, mentre il ministro San Giuliano valuta con i suoi avvocati una risposta per via legale, il governatore De Luca, ospite attreviso alla festa democratica, non rinuncia a rispondere a chi gli chiede di commentare il caso. C'è una dignità dell'istituzione, bisogna capire quali sono le funzioni. Lasciamo perdere una cosa che umilia l'Italia, umilia l'Italia, umilia le istituzioni. E sinceramente non ho capito la posizione del Presidente del Consiglio. Non se ne è accorta che stiamo umiliando l'Italia. La verità giudiziaria ancora non c'è e nemmeno una memoria condivisa. A distanza di 14 anni dall'omicidio di Angelo Vassallo si resta senza sapere chi sono i colpevoli. Durissimo scontro tra Fondazione e Comune di Pollica. Sentiamo. L'anniversario della morte di Angelo Vassallo, ucciso a colpi di pistola 14 anni fa, segna una profonda polemica tra i familiari del Sindaco Pescatore e gli amministratori di Pollica. Per il fratello Dario, presidente della Fondazione Vassallo, il Comune ha cancellato la memoria del Sindaco. Sono 14 anni che Angelo è stato ucciso e 14 anni di vergogna del Comune di Pollica. Prima siamo stati cacciati dal Castello Capano di Pollica e la grande onda era diventata il simbolo della legalità e di Angelo. Accuse rispedite al mittente dal Sindaco Pisani che ha ricordato come tutte le scelte del Comune siano state comunicate e condivise proprio con la Fondazione. Intanto in serata al porto di Acciaroli si è tenuta la commemorazione di Angelo Vassallo per ricordare che a distanza di 14 anni si attende ancora giustizia. Ma il ricordo di Angelo non si cancellerà mai a Pollica. Ogni pietra di questo luogo racconta del grande sforzo di Angelo, della capacità di cambiare le cose che Angelo ha messo in campo e della grande opportunità che ha saputo ritagliare per Pollica e per il Cilento. Ancora non si riesce a capire le ragioni e gli esecutori di questo feroce delitto. Questo è un motivo di amarezza. Nel contempo, nonostante sia trascorso tanto tempo, il ricordo è vivissimo. La prossima settimana si torna a scuola e torna a Napoli anche l'iniziativa dello zaino sospeso che consente di raccogliere e donare materiale scolastico a chi ne ha bisogno. Vediamo. Il 12 settembre si torna tra i banchi, studenti e docenti pronti a riprendere le lezioni. Per le famiglie però è già tempo di fare i conti con la spesa per l'acquisto del materiale scolastico. Libri, quaderni, zaino, astucci, una spesa che in alcuni casi diventa insostenibile. Ed ecco che si moltiplicano anche quest'anno le iniziative per sostenere i nuclei in difficoltà. Per l'annualità 2024-2025 torna lo zaino sospeso. Ispirata al noto caffè sospeso, l'attività consente di raccogliere e donare tutto ciò che può aiutare ad affrontare al meglio il ritorno a scuola. Anche a Benevento, il Lions Club Benevento Host e Arco Traiano hanno promosso l'iniziativa presso la sede del Centro Solidale Beneattivi. Questa iniziativa è nata col Covid, quindi da 2019 in questa sede, è partita come un banco alimentare. Poi alla fine di questa emergenza è diventato un centro a 360 gradi, in questo caso sono i Lions, che effettuano loro una raccolta nel loro interno e poi viene consegnato qui in questa struttura. Quest'anno abbiamo anche delle scuole che hanno aderito, quindi abbiamo comunicato proprio oggi il materiale che serve e poi raccoglieremo il tutto. Tante e diverse infatti le esigenze riscontrate dai volontari. Principalmente i quaderni perché sono quelli che vanno via di più, ma quest'anno abbiamo avuto richiesta di grembiuli, di diari e anche di tante penne e pastelli. Galleria Umberto al centro delle operazioni di restyling coordinate dal Comune di Napoli. Si lavora al restauro dei pavimenti monumentali e dei lucernari, oltre che all'installazione di cancelli per limitare l'accesso. Vediamo. Proseguono a Napoli i lavori per il restauro della pavimentazione in marmo e dei lucernari della Galleria Umberto I. Lavori che vengono portati avanti riducendo al minimo i disagi sia per gli esercenti che per i numerosi turisti e cittadini che ogni giorno affollano la storica galleria nel centro di Napoli. Il lavoro sta andando bene, è un'attività delicata data la complessità e la delicatezza del manufatto. Abbiamo preparato nell'ambito del progetto anche una serie di linee guida per la gestione di quello spazio, a partire dalle attività di carico e scarico delle merci, ma anche di occupazione del suolo legate ai tavolini, alle sedie delle attività commerciali, per proteggere il pavimento. Si prosegue poi con il progetto per i cancelli che limiteranno l'accesso, in particolare in orario serale, alla Galleria. Siamo in via di ultimazione del progetto esecutivo dei cancelli che dovrebbero chiudere i varchi di via Santa Brigida e di via Verdi. Non ultimo, è un aspetto importante, è la chiusura serale attraverso un cancello che sempre il Comune si incarica di realizzare, dell'Angiporto, che è un altro spazio particolarmente critico per gli usi soprattutto notturni. Ad Avellino adesso cemento illegale, arriva la denuncia di Lega Ambiente, bisogna passare ai prefetti il potere di abbattere gli ecomostri, questa è la proposta del Presidente Nazionale Ciaffani. Sentiamo. Ecomafia, Irpini e Maglia Nera per il cemento illegale, Lega Ambiente ha la sua ricetta per contrastare questo triste primato, sconfiggere il partito del mattone, i sindaci troppo spesso minacciati di morte, passi ai prefetti il potere di abbattere gli ecomostri. Bisogna lavorare, cambiando la normativa nazionale perché se lasciamo l'onere e l'onore ai Comuni di fermare l'abusivismo edilizio, purtroppo questo fenomeno l'abbiamo studiato lungamente, i Comuni spesso sono vittima del ricatto elettorale. Sta in questo senso il lavoro che l'Associazione fa da qualche anno per chiedere al Parlamento di approvare una norma per affidare ai prefetti la responsabilità di abbattere gli ecomostri storici. Ciaffani è intervenuto a Mercogliano all'inaugurazione del Mira, il Museo Irpino delle Radici Aumentate, un luogo aperto soprattutto ai giovani per far conoscere il nostro territorio e percepire odori e rumori di un bosco del Monte Partenio. Lega Ambiente credo che sia l'associazione ideale affinché possiamo inculcare ai nostri giovani quell'educazione ambientale e grazie anche a tante emozioni che proveranno in questo museo cercheremo di far rispettare la nostra terra, la nostra montagna. A Benevento adesso dopo lo stop di 24 ore all'erogazione idrica che ha paralizzato la città si torna alla normalità ma sulla questione l'opposizione continua ad attaccare. Sentiamo. Disagi per i cittadini e per le attività commerciali. Lo stop idrico di un'intera giornata programmato per importanti lavori di manutenzione a Benevento alla centrale di Pezzapiana ha creato non pochi problemi. Mentre la situazione torna alla normalità però l'opposizione consigliare chiede un confronto, una richiesta avanzata già all'inizio dello scorso luglio all'indomani di un'interruzione non programmata è rimasta purtroppo inascoltata. Dopo tutto quello che è successo quest'estate con interruzioni notturne, continue interruzioni anche durante il giorno e l'ultima di ieri, sarebbe stato opportuno affrontare la questione urgentemente in Consiglio. Questo non è avvenuto anche perché un Consiglio Comunale c'è stato il 26 luglio ma l'argomento non è stato posto all'ordine del giorno. Di fronte alla crisi idrica più grave che si ricordi nella storia recente della città, la terza bocciatura da parte della Corte dei Conti per la Costituzione del nuovo gestore del servizio idrico integrato, Mastella e la sua maggioranza fanno finta di niente e continuano ad ignorare perfino le richieste di convocazione di un Consiglio Comunale sul tema, incalzano i consiglieri di opposizione. È considerato che la nostra richiesta era sottoscritta da più di un quinto dei consiglieri comunali e quindi da regolamento doveva essere posta all'ordine del giorno del Consiglio, abbiamo ritenuto, trascorso ormai ulteriore tempo, di sollecitare la convocazione e presentare la stessa richiesta, la stessa sollecitazione anche al Prefetto di Benevento per un suo intervento che a questo punto riteniamo essere opportuno. A Salerno torna la fiera dell'enogastronomia e dell'artigianato Gusto Italia, quattro giorni da giovedì 5 a domenica 8 settembre con ingresso gratuito sul lungomare. Vediamo. Promuovere il Made in Italy fatto di prodotti di eccellenza e di artigiani di talento, Gusto Italia è tornato a Salerno, la fiera dell'enogastronomia, dell'artigianato e del turismo, quattro giorni da giovedì 5 a domenica 8 settembre con aree espositive, laboratori, show cooking e spettacoli con ingresso libero e gratuito. Questa tappa è promossa dalla CNA di Salerno, organizzata dall'Associazione Italia Eventi con il patrocinio della Camera di Commercio, del Comune di Salerno e dell'Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. Avremo diversi appuntamenti tra i quali artisti di strada per i più piccoli, avremo la mozzatura della mozzarella qui in diretta a cura del caseificio Trearchi, avremo un momento con l'apicoltura Muccelo che fa vedere la smilatura, in più abbiamo anche i momenti musicali. Un connubio perfetto, quello dell'artigianato e quello del food, ma sono i pilastri del nostro Made in Italy e noi cerchiamo sempre di coniugare queste due cose. L'iniziativa è eccellente, stand ordinati, ricchi di prodotti tipici del nostro territorio e delle regioni meridionali. Una passeggiata quindi che si arricchisce di colossità ed è una gioia per gli occhi, per i bambini che potranno gustare insieme ai genitori delle prelibatezze che altrimenti divenne difficile reperire. Un'opportunità per le tante aziende virtuose salernitane. Il territorio salernitano ha molte ricchezze, una di queste qua che sono molto pregiate perché siamo uno dei pochissimi due aziende che stiamo facendo tartufi, perché stanno proprio pochissime pochissime e poi ci sono altre varietà nel Cilento che è il figo bianco e altre cose. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.